Siamo in passeggiata Morin, si rivedono i turisti, almeno una parte di essi rispetto al passato. Come tassisti avete avuto delle ripercussioni positive da questo nuovo afflusso? Per adesso stiamo parlando di germogli, stiamo parlando di qualche timido segnale, però sono segnali incoraggianti, si rivedono persone, si risentono persone parlare lingue straniere, inglese, cose che la passata stagione, la scorsa estate, proprio erano totalmente azzerate, quindi incoraggiano sicuramente. Rispetto alla scorsa estate, nel numero totale di corse che facevate, quanto erano destinate ai residenti e quanto ai turisti invece? In piena stagione diciamo che la grande parte delle corse era comunque per i residenti, perché il turismo che c'è stato l'anno scorso era un turismo italiano che su di noi incide molto meno, diciamo sono più organizzati, sanno muoversi sicuramente meglio degli stranieri, però comunque sono i benvenuti, fanno bene all'economia. Recentemente avete manifestato in città chiedendo alle istituzioni un aiuto per i mesi passati, i mesi difficili passati, avete avuto delle risposte soddisfacenti? No, non abbiamo avuto risposte, purtroppo no, niente.